Nulz, seconda stagione, affrontiamo ancora una volta il tema del revenge porn, ma ampliandolo, andando nel mondo degli adulti, ecco, come avete lavorato proprio per mostrare questo aspetto che è inedito rispetto ai primi episodi? Sì, questa è stata una scelta, diciamo, editoriale del produttore Riccardo Russo, l'intuizione è quella di allargare lo spettro agli adulti e secondo me è stata una scelta interessante che mi ha convinto proprio perché la diffusione di materiali intimi inconsensuali è una cosa che riguarda il solo gli adolescenti, anche se, come dire, è sicuramente un fenomeno molto diffuso tra gli adolescenti, colpisce soprattutto le ragazze, solo, ma è un fenomeno che riguarda tutti, probabilmente anche perché le abitudini e i comportamenti degli adulti di oggi sono anche più vicini a quelle delle generazioni successive, quindi diciamo che c'è una differenza così sostanziale tra un padre e un figlio, come nella mia storia interpretata da Fortunato Cialino e Lorenzo Sarcinelli, dove il padre utilizza i social per il figlio e in testa le relazioni anche sentimentali, anche attraverso strumenti tecnologici e quindi in qualche modo anche il revenge porn con tutti gli affini è un fenomeno che può colpire tutti, compresi gli adulti, adulti che a volte addirittura in certi casi sono anche meno strutturati, da tutti gli affini, per esempio tecnologico eccetera eccetera e quindi risultano paradossalmente anche più indifesi. hanno un'ingegnerità tecnologica anche per quello che riguarda proprio i temi del revenge porn diciamo che negli ultimi anni se ne è cominciato a parlare molto anche grazie a questa serie ma anche sono state fatte campagne di formazioni sensibilizzazione eccetera adesso forse è il caso anche di ragguagliare anche gli adulti sul fatto che le loro vite possono andare in frattumi esattamente come quelle dei giovani. ecco la tua opinione su questo. Una piccola cosa proprio sulla decisione di BIM di Riccardo Russo di parlare degli adulti in realtà la serie si concentra sugli adulti ma non lascia fuori tutto il mondo degli adolescenti. Mentre nella prima serie c'eravamo focalizzate solo con gli adolescenti e gli adulti rimanevano in ombra. Io credo che una cosa bella di questa nuova stagione sia che c'è un fuoco sugli adulti ma non c'è un problema come questo che colpisca un adulto che non colpisca anche gli adolescenti che sono attorno a lui. Quindi nei nostri casi abbiamo alla fine sono casi che raccontano le famiglie. Un adulto che rimane intrappolato nel dramma del revenge porn porta questo dramma a casa e quindi le conseguenze sono sofferte anche dai figli. Quindi c'è una bella orchestrazione di scrittura di adolescenti e adulti. Quindi i nostri sceneggiatori che sono Danunzio, Caproni e Piacerelli si sono concentrati sui adulti, ma hanno creato anche dei bellissimi personaggi di adolescenti. Il mio episodio è un ponte perché ancora abbiamo un adolescente protagonista ed un adulto, quindi è una specie di passaggio dalla prima stagione alla seconda. Però c'è stata una ricerca da parte degli sceneggiatori di raccontare un'arena il più grande possibile. Il fuoco sì sugli adulti, ma ci sono dei personaggi di adolescenti molto intensi e molto belli perché che lo vogliano o no, sono coinvolti nel dramma dei genitori. Assolutamente c'è anche l'abbracciare la platella e il GBT diciamo in uno degli episodi che è importante perché proprio tutti si possono rispecchiare in questo problema che è un problema globale, talmente globale che ci si chiede quando si arriverà a sensibilizzare con l'educazione, l'informatica, i social nelle scuole, l'ultima proposta di leggere che è stata avanzata ad esempio di accedere ai siti porno con lo speed. Magari anche per i social network potrebbe essere opportuno capire effettivamente chi è che sta dietro quella tastiera, il leone da tastiera, chi è? Perché magari spesso le persone si sfogano perché non sono identificabili, non so cosa ne pensate. Non ho la soluzione personalmente perché non sono uno studioso del fenomeno quanto mi sono documentato per fare la serie. Non sono sicuro che bastino soltanto gli strumenti tecnologici comunque per arrivare a risolvere questo tipo di problemi che riguardano anche per esempio un'educazione agli effetti, alla sessualità che quindi va al di là dell'aspetto meramente tecnologico che è sicuramente però importante perché comunque comunque possono esserci delle forme come dire bench form anche per esempio che non riguardino per esempio la telematica cioè può essere praticamente che un video possa essere girato come si faceva una volta anche con la telecamera anche con un cellulare poi dopo divulgato soltanto in un momento successivo quindi il problema non è soltanto legato ai social, ma un po' più ampio a mio avviso. La cosa molto particolare del nostro mestiere è che quando giriamo qualcosa con un argomento particolare poi un po' veniamo interrogati come se fossimo degli esperti. Noi entrambi abbiamo fatto ricerche e facciamo ricerche nei nostri film però non possiamo parlare a nome degli esperti o come esperti, possiamo dare la nostra umile opinione e io sono veramente d'accordo con Marco non è un problema di tecnologia, è un problema di educazione sentimentale, è un problema di educazione ai sentimenti come la rap, l'invidia e la gelosia che prima di essere metabolizzati vengono messi sui social allora bisognerebbe forse, e lo dico con grande semplicità, un'unità da madre bisognerebbe andare un passo indietro e pensare all'educazione sentimentale della gestione di un sentimento come la gelosia, perché prima che venca gestito è già pubblicato quello è il grande dramma, perché in questa serie appunto parlando delle famiglie noi cerchiamo di mettere in luce il problema da sotto tutti i punti di vista, non solo quello degli adulti.